Buon pomeriggio e buona domenica a voi. Insomma, l'intervento di Fausto Bertinotti è stato piuttosto duro nei confronti della sinistra italiana. La Schlein viene definita il PD da serie Netflix. Non se la sta passando molto bene e di Schlein l'avevamo già detto un paio di settimane fa, dopo l'iniziale entusiasmo e la crescita nei sondaggi, piano piano sta retrocedendo drammaticamente gli Schlein. Ma non solo iniziano ad esserci le fuoriuscite dal Partito Democratico, non ultima quella di un esponente molto di spicco del PD, cioè Marcucci, e ne seguiranno sicuramente molte altre. Sta succedendo un qualcosa di importante nella sinistra italiana, una vera e propria spaccatura che potrebbe addirittura portare il Partito Democratico a scivolare sempre più in basso e chissà magari a formarsi un nuovo partito o addirittura a prendere qualcosa che già è esistente per quanto riguarda lo schieramento di Renzi, ma anche quello di Calendi. Infatti Marcucci dovrebbe confluire nel centro che si è creato per quanto riguarda l'opposizione. Ora la cosa che ci viene da chiedere, ma realmente chi sta portando avanti le strategie del sistema? Cosa avviene? Se all'interno di quello che io stesso ho sempre definito il partito di riferimento del sistema, il Partito Democratico, c'è in atto un fuggifuggi possiamo dire e quindi forse anche di fatto una scissione. Cioè Elislein appartiene a quel tipo di sistema o Elislein è ancora qualcos'altro? Oppure allora quelli che stanno fuoriuscendo cosa vogliono fare? Cosa rappresentano? Sicuramente non è facile in questo momento dare una risposta. Quello che è certo che sicuramente il modello Elislein per quanto riguarda molti italiani è da respingere perché sappiamo perfettamente Elislein come la pensa ad esempio sulla famiglia, una famiglia nella quale noi non ci ritroviamo e quindi respingiamo questo modello da parte di Elislein. Ma tutte le sue posizioni per quanto riguarda gli LGBT, per quanto riguarda anche il lavoro ad esempio, lei continua in perterita a ritenere che sia il reddito cittadinanza quello che deve risolvere alcuni problemi della povertà in Italia quando abbiamo visto cos'è successo con il reddito cittadinanza siccome poi non siamo neanche in grado di controllare a chi va questo reddito cittadinanza. Io non sono a prioristicamente contrario. Il problema è che nel nostro paese poi non si riesce realmente a controllare e poi questi soldi spesso vengono sperperati. Allora bisognerebbe fare più delle manovre che vadano nel senso di favorire la possibilità che ci sia maggior lavoro per tutti. Ma rimanendo a quello che succede all'interno del partito democratico io credo che è davvero destinato piano piano a sparire, ad avere sempre meno consenso e soprattutto come vi ho detto a creare delle fuoriuscite che non possono che farsi che si crei un nuovo soggetto probabilmente in chiave futura. Sta di fatto che seppure uno come Fausto Bertinotti ha una critica così feroce nei confronti della Schlein e del partito democratico questo insomma un segnale importante lo deve pur rappresentare. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.